Buongiorno a tutti i ragazzi, sono Yisa per Ptv e oggi continueremo sull'unico forse Siamo nella diciottesima fase Questa dovrebbe essere Ah no ce l'abbiamo fatta, aspettate Esce, perfetto Era diciannovissima dovremmo essere, aspettate Eccolo qua, questo episodio, face diciannove Non mi piace starmene con le mani in mano Ma dobbiamo aspettare che Tails torni qui Non essere pessimista, Metal Sonic è stato visto in città Sarà un altro falso Perché dovrebbero preoccuparsi di creare una coppia di qualcosa che non è reale Potrebbero solo costruirne di più In ogni caso ci penseremo noi Andiamo collega Ok Sonic andiamo Red Gate Bridge City Attenzione, Metal Sonic è l'intorno Strano, non lo vedo da nessuna parte Ecco perché Bel lavoro collega Continua così Non possiamo lasciare che si scatenino per la città Quindi anche questo è grazie al rubino fantasma, eh? La nuova invenzione di Eggman è davvero una rotina La nuova invenzione di Eggman è davvero un'altra parte La nuova invenzione di Eggman è davvero una rotina Non è davvero un'altra parte La nuova invenzione di Eggman è davvero un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Vai, Metal Sonic, muori. 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 Ok, sì. Ok, peccato che voi non potete vedere queste miniscene perché... Non si può stare vedere, non ho capito perché. Faccio segreto, guardate che sono le parti extra, su quello farò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mmm. Mmm. Prima, ci serve un diversino. Allora, ci penso io. No, Knuckles, ti distrai facilmente già da solo. Non è la caratteristica adatta per questa occasione. E poi sei il nostro comandante. Ci servi qui. E la spina? Eggman non se lo aspetterebbe mai. Potrebbe persino confonderla un po'. Ottima idea. Sì. Guarda, i tuoi ordini, Spira. Eggman avvierà il suo piano tra un giorno, quindi diamoci una mossa. Sì. A Green Hill. Guarda un rock. Rock and roll. Perfetto. Fino qua non devo neanche parlare alla fine del video. Fino di calore non identificata. Si richiede analisi. Aspettate, è un robot da battaglia. I segnali di energia sono fortissimi. Eggman aveva un'arma nascosta nella manica. Robo non toccare, Ancora, continued agir! Perfetto. Fate, fate, egal... Elle le la che ho spessi, Sola. Deve aiutava. I diversivi funzionano solo a seconda delle scause In ogni caso appiremo la sua attenzione Non rischiamo troppo però Noi ci occuperemo di Chemical Plant Mi serve il più rumore possibile E basta però I diversivi funzionano solo a seconda delle scause In ogni caso appiremo la sua attenzione Non rischiamo troppo però Noi ci occuperemo di tempo per te Ci serve il più rumore possibile Dai Spina I diversivi funzionano solo a seconda delle scause In ogni caso attiriamo la sua attenzione Non rischiamo troppo però Noi ci occuperemo di chemical plant Mi serve il più rumore possibile Lottatore perfetto Vai Dovemmo mettere un po' di frutto Dai Ma perché mi ammazzo sto cosa Sì abbiamo capito Se no te le possiamo togliere quando muro Noi ci occuperemo di chemical plant Mi serve il più rumore possibile Mi serve il più rumore possibile Ma perché non salta questo Naturalmente solo per questo scemo Dai No avatar poi In ogni caso attiriamo la sua attenzione Non rischiamo troppo però Noi ci occuperemo di chemical plant Mi serve il più rumore possibile Ma perché Ma non salta Avete visto pure voi Hai saltato ma poco proprio Giotto in bounce Non rischiamo troppo Noi ci occuperemo di chemical plant Mi serve il più rumore possibile Ma che Ma che Mettiamolo Wow neanche ho saltato No dai ma sta cosa è impossible Bolla Che Ma che Ma che Mi serve il più rumore possibile Mi serve il più rumore possibile no dai no no io sto qua io spino alla storia spino alla storia non si può fare no dai spina salta pochissimo però eh ho capito ma spina non sa fare nulla io sto semplicemente a correre come on ok eccolo qua un ragno brava spina alleluia b mi va bene 8 tentativi ci abbiamo messo combinato alla base 20 ok base 21 secondo me non è finita qua però è sempre maggiore il suo di Eggman si va bene ok base 21 sono quasi a chemical plant come se la cava la spina con il diversivo fino ora tutto bene dovremo trovare un soprannome più adatto se continua a questo livello ora dobbiamo andare ai computer di chemical plant e disattivare il sistema delle armi del Death Egg perfetto stavo aspettando il mio turno con ansia con Sonic andiamo network terminal la spina ha fatto un ottimo lavoro comisca tocca a te adesso dobbiamo conquistare chemical plant se qualcuno prova per male è il limite ricevuto non sanno cosa vi aspetta per ora stavo facendo il suo Sonic No, adesso dovevo andare Ma non c'è, non c'è un punto Ma è bello che ci sono 40 Sì, me stesso allora C'è un tralaco, ma solo No, ma ci va da solo C'è una vita da arrivare fin qui Sì, ho capito, però tu sei un'efficienza Allora, io faccio qua Non premmo fottutamente salto Allora, comisca Tocca a te adesso Dobbiamo conquistare chemical plant Se qualcuno prova a fermare È lì Ricevuto Non sanno cosa li aspetti Mi a rischio ora Mi dirigo verso Chemical Plant Sarebbe ancora più bello se non fossi in missione Ok, siamo dentro! La sala computer è più avanti Da lì dovrete riuscire a disattivare il sistema di difesa dell'Ete Ah ok, va bene Ah ok, va bene Ho trovato un accesso alla sala computer Bene, ora possiamo distruggere il Ete Alleluia 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 Non me ne frega, non me ne frega, non me ne frega, non me ne frega Alleluia 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 no mini sonic Questa è il primo gioco di Sonic che è il gioco comunque e si nota si vede pure a tutto il gioco ciò è di donna è quello che è il gioco vale tutte le cose comunque andiamo avanti ok stavo dicendo la fase 23 allora ci sono 30 fasi si è quasi venito segreta 5 abbiamo capito missione compiuta il segnale del rubino fantasma si è indebolito molto ora l'arma migliore del dottore dovrebbe essere bloccata i sonic ci hanno fornito un'ottima occasione non possiamo sprecarla così questo è il momento che aspettavamo è ora di saltare il conto ora che il rubino fantasma non ci minaccia più potremo schiacciare quella testa d'uovo di Eggman si ma non dovresti fare i conti senza l'oste Ruz ha ragione Eggman e Infinite sono ancora nei paraggi non possiamo abbassare la guardia facciamo in modo di andare a casa tutti interi ok 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 va bene rimbocchiamoci le banche il nostro obiettivo è Eggman alla torre centrale si ok quindi piano piano abbiamo quasi finito la sera comunque andiamo per riprenderci il nostro volo non fermate non buttate restate concentrati sulla nostra missione avanti diamoci dentro carica se catturiamo Eggman vinceremo scopri dove si trova sonic con noi ti daremo una mano il più possibile bene cacciare Eggman è il mio hobby preferito lo troverò molto presto no volevo andare là sopra peccato stava da qua no devo premere X per forza solo all'inizio almeno po' più di velocità sonic sono fa di meglio questa cosa qua si è all'ultimo livello di oggi perché lo dirò beeeel po' più di mezzetta ok no no that's a checkpoint, right? yes no, I didn't do it! we're still still! oh I 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